ciao sono davide garanti di server lab quanto è bello dropbox che grande invenzione chi è che non piace molti piattaforma va su tutti i sistemi uno spettacolo uno spettacolo se non fosse che i dati prima passano vanno in america poi tornano giù nel pc a fianco a due metri facendo un traffico terrificante le aziende italiane hanno poca banda non è che abbiamo tutti un gigabit come a manattan abbiamo due megabit 4 megabit grosso problema in più ma perché i dati devono andare in america per andare a finire nel pc a fianco non sarebbe semplice che rimanessero nel server aziendale questa cosa esiste noi l'abbiamo chiamata safety cloud box si tratta di un sistema che funziona come dropbox ma lascia i dati sorgenti là dove già si trovano il face server aziendale quindi cala il traffico perché non devo caricare per poi scaricare e poi la sicurezza è la mia active directory i miei utenti aziendali il mio face server dentro l'azienda registratevi su server labbt vi racconteremo storie come safety cloud box e altre belle cose